L'ultimo rito dei super acrobatici moderni, prodotto in America, immediatamente riprodotto dai modellisti, tra cui Orlando Roberto. Eccolo immediatamente in rovescio, tonno a step, serie velocissima di tonno in asse, verticale e non finire con un sende di tonno per darci un'idea di quanto a potenza si è installata rispetto al peso. Questi acrobatici in verticale non hanno problemi, possono salire all'infinito perché la potenza è superiore al peso della cellula. E questo consente loro di fare figure acrobatiche verticali impensabili con che hanno fatto. Grazie. Grazie. Eccolo il volo di coltello. Pirata di coltello. Tu hai metto i tonno, ritorno. Tu hai metto i tonno. oh Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie.